I nostri vecchi amici Sweetie e Miki sono di nuovo al centro di una guerra di scherzi! Guarda la loro nuova divertente compilation di scherzi in questo nuovo video! Sweetie e Miki si preoccupano molto l'una dell'altro, lui le fa il caffè, lei in cambio prepara una spremuta d'arancia per lui. Versa la salsa di soia in una tazza di caffè. Aggiungi un cucchiaio di carote e zucchine stufate nel succo. Mescola bene. Metti una cannuccia al posto del cucchiaio. Assaggiano i loro cocktail nello stesso istante. E il premio per uno scherzo reciproco va ad entrambi i burloni. Il tuo ragazzo è totalmente preso dal suo computer. È ora di dargli un sacchetto di patatine fatte con amore. Apri con attenzione una busta di patatine. Togli metà delle patatine. Al loro posto metti dei dischetti di cotone. Guarda, stanno entrando velocemente, come se all'interno ci fosse una festa di benvenuto. Incolla il pacchetto. Lascia un piccolo foro per gonfiarlo. In questo modo il pacchetto sembrerà reale. Chiudi il buco con la colla. Squoti il pacchetto per mischiare patatine e dischetti. Il tuo ragazzo apre il suo pacchetto. Si mette le patatine in bocca senza guardare. Sorpresa! C'è un batuffolo di cotone dentro. Faresti meglio osservare quello che mangi. Un pacchetto di patatine non è buona alimentazione. Potresti diventare grasso e brutto. Facciamo una tavoletta di cioccolato speciale per il suo tè. Scarta una tavoletta di cioccolato. Forma una tavoletta con l'argilla modellabile. Mettici sopra il cioccolato. Taglia l'argilla in eccesso. Lascia un messaggio sulla barretta finta. Disegna una faccia divertente con la lingua fuori. Una piccola provocazione. Rimuovi la pellicola. Scambia il vero cioccolato con quello finto. Inserisci la tavola d'argilla invece di quella vera. Aspettandosi un altro scherzo, Mickey annusa il suo tè. Non c'è niente di strano. È così ingenuo! Togli la confezione dal tuo cioccolato. C'è dell'argilla bianca invece che il cioccolato. Argilla al posto del cioccolato. È immangiabile! Mentre il tuo ragazzo al lavoro, decora il suo normalissimo portatile. Sarà scioccato! Copri la parte superiore con della tempera bianca. Fai attenzione a non far entrare la pittura all'interno e danneggiare il computer. Non preoccuparti se il logo non si pittura. Lo useremo nel nostro disegno. Fai un bel disegno della misura giusta su un pezzo di carta o stampalo da internet. Disegna un cerchio al centro in corrispondenza del logo. Ritaglialo. Metti l'immagine sulla parte pitturata asciutta. Ricalca i disegni. Rimuovi la carta. L'immagine si è trasferita. definisci i dettagli. Colora un unicorno divertente usando del gouache. Delinea e colora il logo. Fai che sia il fumetto dell'unicorno. Usa delle penne glitter per delineare le nuvole e i fiori. Inoltre puoi colorare d'oro il corno e aggiungere glitter alla nuvoletta. Porta il portatile aperto al tuo ragazzo in modo che non veda la parte superiore. Lascia che lo scopra più tardi. Ma perché è così arrabbiato? Sia l'unicorno che i fiori sono così carini. Adesso è anche molto meglio. Farà meglio ringraziarmi. Bene, aspetto che la mia ragazza lasci il suo portatile incustodito. Sarò pronto per farle uno scherzo. Prendi un portatile e applica diversi strati di pellicola. Avvolgili ben stretti. Sweetie prende il suo portatile. Cosa succede? È impossibile aprirlo. È imballato come un'arma. Beh, ci vorranno un po' di tempo e fatica per tirarlo fuori. La competizione con i notebook termina con un pareggio. Crea dei deliziosi dolci da pubblicare su Instagram. Fai sapere a tutti cosa mangi. Ma il tuo ragazzo ha la sua opinione a riguardo. Fagli assaggiare il dolcetto cucinato appositamente per lui. Metti in cima l'amido al posto dello zucchero a velo. Metti morde la tortina. L'amido non è dolce come lo zucchero a velo. Ma le immagini della sua espressione facciale otterranno più mi piace di quelle dei dolci. Non c'è bisogno di usare i filtri. Tuttavia, Metti cancella le immagini. Non vuole diventare un eroe di Instagram. Stanca della popolarità di Instagram, Sweetie va a letto. Mickey prende il suo telefono e scorre le sue foto. Sono così noiose. Ok, so come renderle interessanti. Metti una fascia per capelli da bambina sulla testa della bella addormentata. Scatta delle foto col suo telefono. Sarà felice di vedere il suo nuovo look nelle foto quando si sveglierà. Sweetie lascia i suoi trucchi sparsi dappertutto. Mickey si siede e si fa male con qualcosa di appuntito che è uscito dal suo beauty case. Le farà uno scherzo. Incolla un piccolo cactus in un contenitore vuoto per il rossetto. Gira per farlo scendere. Sweetie prende il suo rossetto. Sta per truccarsi le labbra, ma invece di un rossetto dolce e brillante, c'è un cactus verde pungente. Forse ha una lingua tagliente, ma questo non è un buon motivo per usare un cactus come rossetto. In cucina è bruciata una lampadina. Mickey, vieni e cambiala. L'aggiusterà. Vai via e smettila di darmi fastidio. Dammi la lampadina. Sweetie ha una lampadina molto speciale. Smonta la lampada led bruciata. Rimuovi il materiale di riempimento. Metti la colla calda sulla lampadina. Attacca un uovo crudo. Mickey cambia la lampada bruciata con quella uovo. Ups! L'uovo gli si rompe in mano. È molto arrabbiato. È un elettricista, ma non un cuoco. Mickey prende un libro in mano. È da molto che non legge. È ora di fargli uno scherzo. Sweetie va piano alle sue spalle e mette una campanella nel suo cappuccio. Mickey sente suonare il campanello, ma non riesce a capire da dove proviene il suono. Ha fatto tanta fatica a prendere in mano un libro. E adesso suona la campana della scuola. È una sveglia? Sono delle fate invisibili che lo inseguono. Finalmente trova la fonte del suono. È una campana nel suo cappuccio. Stai attenta, Sweetie! Ho una prelibatezza speciale per il mio ragazzo. È un sandwich con un ottimo ripieno. Vermi trasparenti. Abbiamo bisogno di spaghetti di riso. Mettili in acqua calda per cinque minuti. Metti gli spaghetti nel panino. Mickey è sempre pronto per fare uno spuntino. Morde un pezzo e vede i vermi finti. Oh, quanti anni ha questo sandwich! Oh, sono solo spaghetti trasparenti. È uno scherzo di Sweetie. Questo è uno scherzo per un selfie di gruppo. Mickey si mette della colla sul palmo. Sweetie corre felice a fare un selfie. Come bonus per la foto, ha un braccio appiccicoso. Orribile! Dovrò fare una doccia! Mentre Sweetie lava via la colla dal suo braccio, Mickey si sta prendendo cura del suo dedorante. Gira lì in su un antitraspirante vuoto. Rimuovi la base. Tracciala su cartone o carta spessa. Ritaglia. Fai un buco al centro. Rimonta il contenitore. Inserisci la base di carta. Sciogli del cioccolato bianco a bagnomaria. Inseriscilo nel contenitore. Rimuovi le sbavature. Leviga la parte superiore e metti il cappuccio. Refrigera. Il cioccolato fresco sembra un vero antitraspirante. Sweetie esce dalla doccia. Sta per applicare il suo deodorante. Ma uno strano odore dolce la ferma. Questo antitraspirante è stato fabbricato in una fabbrica di cioccolato? Grazie Mickey! Mentre Sweetie si sta guardando allo specchio, Mickey sta preparando un nuovo scherzo. Scambia la sua acqua micellare. Versa dell'acqua pura in una bottiglia d'acqua micellare vuota. Sweetie imbeve un batuffolo di cotone, ma invece di rimuovere il trucco, lo spalma! Lei sa di chi è lo scherzo. È di questo astuto codino rosso! Ti sono piaciuti gli scherzi di coppia? Scrivi nei commenti quale scherzo ti è piaciuto di più. Assicurati di iscriverti, dacci un pollice in su e fai clic sulla campanella per non perdere i nostri nuovi scherzi divertenti!